Passiamo al prossimo servizio, il liceo scientifico di Trapani celebra oggi la giornata dell'arte e della creatività studentesca, vediamo. Anche al liceo scientifico Vincenzo Fardella di Trapani grande spazio questa mattina alla celebrazione della tradizionale giornata dell'arte e della creatività studentesca, un appuntamento che si rinnova sull'onda dei positivi risultati fin qui registrati. E' una tradizione che dura ormai da nove anni e che non solo noi non vogliamo interrompere ma soprattutto sono i ragazzi che legati profondamente a questa tradizione non desiderano assolutamente interromperla. Il giudizio della preside è di piena ed ampia promozione per tutti? Beh io ritengo che il bilancio è molto positivo e tra l'altro desidero anche lanciare un messaggio anch'io a tutti i giovani, nel senso che la bellezza della vita è nel futuro di ciascuno di noi, quindi solo se sappiamo proiettarci possiamo rendere la nostra vita bella. Tra i progetti fiora l'occhiello del Fardella quello della scuola Cantans realizzata su un'idea del professore Maurizio Vento e di cui recentemente si è anche occupata la stampa specializzata statunitense, un modo di insegnare latino coniugandole l'insegnamento con la musica pop fortemente nelle corde degli studenti.